bella a tutti ragazzi qua c'è il vostro pro che vi parla e siamo oggi non con un video sulle due serie che ho iniziato in questi giorni ma con un video di sfogo tra virgolette non sono incazzato sono tranquillissimo però ecco voglio un attimo farvi vedere perché non vedete video di ghost sul canale e soprattutto voglio farvi capire perché io non gioco a ghost tralasciando le classiche probabilmente faranno cagare perché appunto sono abbastanza vecchio ho deciso di prendere ghost in mano ieri sera quando mi sono detto dai non ci gioco da tantissimo proviamo dai e allora niente mi ci metto in questa partita di tutti contro tutti nella quale ero deciso davvero a giocare bene utilizzavo le cuffie appunto che ho appena comprato per sentire meglio i passi però come potete vedere io non li uccido loro mi uccidono in due colpi io faccio mille et marker comunque la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ultima uccisione che ho subito in questo video vedrete praticamente un ucciso guardate la gente come gioca cioè se vi sembra normale che la gente giochi così comunque appunto l'ultima uccisione che vedrete l'ultima morte che vedrete ecco sarà proprio l'ultima perché ho poi spento direttamente la playstation non ho ancora venduto ghost perché ero fiducioso nel senso o meglio sono ancora fiducioso magari cambierà magari cambiando la connessione cambierà qualcosa non lo so non non ci spero io più di tanto ecco sperateci voi giusto che qualcuno comunque ci speri e appunto ecco per questo che non vedete video sul canale perché non riesco a fare video su un gioco nel quale mi sento davvero con mi sento partire svantaggiato rispetto agli altri mi sento come se avessi degli handicap non fraintendete negli handicap nel senso nel giocare ecco a questo gioco perché su mv2 non trovo questi problemi perché su black ops 2 non trovo questi problemi addirittura mv2 più ciò che c'è guardate mi sembra normale che l'unica uccisione che faccio la faccio da 100 metri con una mitraglietta e poi guardate questo anche come mi ha ucciso guardate sta guardando lì fermo fermo immobile poi si è girato all'ultimo mentre io stavo uscendo perché in età i passi si sentono anche discretamente bene però ad esempio qua sono rinato vabbè lascia stare che stavo facendo scazzo così però anche lui era lì che farà sei cazzi suoi poi non so che prestigio sia questo già e come cazzo ha fatto a vedermi c'ha i raggi x quello poi qua rinasco con questo qua che mi sta già sparando cioè il video è praticamente giunto a termine perché appunto non vedevo motivazioni per continuare la partita 1 motivazioni perché l'ultima giocare a cost 2 mi ero davvero troppo incazzato ho deciso di spendere direttamente la play non ha senso cioè l'unico modo in cui puoi giocare qua e stando fermo in un angolino oppure non giochi oppure giochi così a scazzo ora ogni volta che c'è un angolo c'è sempre qualcuno che mi sta già puntando certo è una cosa normale per voi lì qua mi pare che avesse capito che stava camperando di uno allora ho deciso di andare a prenderlo ora vedete proprio gli ultimi morti non so ne mancano tre più o meno mi pare fosse un'uccisione tre e undici morti mi sono ritirato qua sentivo dei passi poi improvvisamente silenzio e non era morto nessuno sarà sarà scomparso sarà teletrasportato comunque il prossimo video probabilmente sarà una cosa dei misteri e qua ancora qua questo guardate fermo immobile eccolo arriva comunque il prossimo video appunto sarà ancora un altro della serie dei misteri stavolta parterò il bene amato just soda ecco vedete l'uccisione che mi ha fatto proprio incazzare vi prego di lasciare un like a questo video se la pensate come è anche scrivetemelo nei commenti ci si vede alla prossima bella rega a me non si placa sono lagrimo da facca vedi il demone di osaka che spalanca tutti i chakra qui l'hip hop è una figata ma se ascolti waka flaka mentre pompi waka waka la mi faccia da